Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video quest'oggi siamo qui sul nostro server TeamSpeak e vi farò vedere come è fatto principalmente per chi volesse entrare o venire a trovarci oppure semplicemente venire a parlarci quando entrarete nel TS vi troverete nella stanza Benvenuti e potrete spostarvi nelle stanze pubbliche qua sotto nelle stanze per la musica nella stanza per la musica o nelle stanze dedicate ai vari giochi in fondo troverete una stanza chiamata richiedi stanza qui potrete entrare e automaticamente il bot vi sposterà dentro alla vostra stanza privata e se non ce l'avete ve la creerà qui sopra invece troveremo i canali dedicati allo staff e alle riunioni dello staff ovviamente e anche un'eventuale stanza assistenza per chi avesse bisogno di aiuto o di qualcosa quando entrerete in questa stanza arriverà un messaggio automatico a ogni staffer del server e verrà ad aiutarvi se volete entrare nella stanza se per caso volete entrare nella stanza di un founder o di un admin per parlare con lui o semplicemente per aspettarlo lì per farvi vedere basta entrare nella sala d'attesa e automaticamente anche qui partirà un messaggio che farà vedere al founder o la persona proprietaria della stanza che siete lì in modo da potervi accogliere al più presto e niente questo è un breve video per presentare il nostro server TeamSpeak mi raccomando che ricorda di andare in descrizione lì troverete l'indirizzo IP del nostro server mi raccomando connettetevi venite a trovarci dobbiamo essere numerosi niente spero che con questo video vi abbia spiegato abbastanza cose per questo video è tutto ci vediamo nel prossimo video arrivederci ciao